Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. Benvenuti in un video overclock. Esatto, oggi volevamo porre un primo passo su quello che è un argomento che ci avete chiesto per tanto tempo e per tanti anni, anche se effettivamente poi vedremo non è tutto sto granchier, è più rumore che poi effettivamente ormai quello che è a parte una nicchia di super appassionati. Però qua andiamo a vedere come fare overclock per la vostra scheda video. È una cosa che ci chiedete da veramente tanti anni, è una cosa che tra l'altro vi abbiamo anche promesso da tanto tempo, quindi andiamo un po' a colmare questa lacuna perché manca un contenuto del genere sul canale. Quindi ci sono delle doverose premesse da fare. Prima tra tutte l'utilità appunto, come detto, di fare overclock perché di fatto c'è una situazione attualmente, ma non attualmente oggi, quanto più negli ultimi X anni e nelle ultime X generazioni di schede video perché ovviamente i produttori di schede hanno quanto più interesse possibile a spingere al massimo le prestazioni delle proprie schede una volta uscite dalla fabbrica. Sì, non c'è motivazione, soprattutto in un contesto di concorrenza, in un contesto comunque dove devi accaparrarti l'acquisto da parte del consumatore finale nel lasciare delle percentuali di performance lì a morire. Esatto. Senza per nulla. Quindi di fatto negli ultimi anni, sia lato processori che lato schede video, i prodotti escono sempre quasi tirati al massimo. Ovviamente sulle schede video però abbiamo una customizzazione tale su modelli anche molto performanti che ci permette anche con raffreddamenti particolari di poter fare un ottimo lavoro di overclock e poter aumentare le performance sempre di più. Tant'è il fatto che adesso con un overclock importante sulla 1080 Ti, ma neanche così importante, si possono raggiungere performance della 90 e anche toccare la 90 Ti. Infatti, e non solo sull'NVIDIA, perché se ricordate bene, nelle recensioni delle ultime Radon che abbiamo effettuato, siamo riusciti ad andare anche un po' su di overclock. Ma di brutto, sulla 6.700, vi ricordo, quasi 2.300 MHz hanno fatto in più. E si recupera qualche punticino percentuale che ovviamente su schede nuove, quindi magari anche già di fascia alta, ha il senso che può avere. Quindi lascia un po' il tempo che trova. Però su schede che magari già cominciano ad avere qualche anno, si comincia a perdere un po' di efficacia nei videogiochi moderni. Le smontate, la passa termica e tutto, può diventare interessante aumentare quel tocco, quel 5%, quel qualcosa in più di performance, che vi dà quella botta in più per tenere in un periodo dove effettivamente adesso cambiare il GPU non conviene. Seconda premessa necessaria, ovviamente, con l'overclock, quindi con la pratica che vi permette di alzare rispetto alla frequenza standard le frequenze operative della scheda video, aumenta chiaramente anche il calore. Quindi, come detto, esistono tante personalizzazioni di schede, quindi ci sono tante possibilità a seconda della scheda che si recupera. Le blower sono le peggiori, quelle triventola con un corpo grosso così probabilmente sono anche quelle che hanno un po' più di margine. Poi dipende anche dagli heat sync, dipende da com'è fatto, perché abbiamo visto alcune schede nell'ultima recensione, anche dell'RTX 3000, abbiamo visto una 30-50 GB che faceva 70-80 gradi, e poi un Asus che ne fa 50, perché il dissipatore era nettamente peggiore. Per cui dipende poi dalla qualità della scheda in sé, della customizzazione, del lavoro che viene fatto dal produttore. Oltretutto, anche qui, non scontato, dipende tanto anche da dove l'ha infilata la scheda video, perché ovviamente se state assemblando una configurazione SFF, small form factor, quindi mini-TX, è ovvio che l'overclock è sconsigliatissimo, a meno che non sia liquidato. Anche un ATX compatto o con un flusso d'aria, non sufficiente a garantire comunque una reazione buona, o soprattutto in verticale attaccata al vetro, diciamo che certe pratiche sono assolutamente da evitare. Ma basta ciance! Cosa serve per fare overclock? Tre cose, principalmente. Una scheda video, e non è proprio... Giusto, quattro cose, allora. Non è proprio roba da niente. Principalmente i modi per overclockare sono tantissimi, ma sono sempre uguali, quindi potete farlo con un sacco di strumenti. Ad oggi, vabbè, il più famoso è sicuramente Afterburner, come software. Mentre ci sono, durante gli anni, sono nate tante soluzioni alternative, come l'X-Precision di EVGA, come il tool di Asus, il Tweak Tool, ma anche tante cose proprietarie di NVIDIA AMD. E poi, ovviamente, dove puoi andare a testare questi aumenti e miglioramenti? Perché tu aumenti, sono tasti che clicchi, sono linee che esposti, ma poi alla fine, dove... Cioè, se lasci il sistema in desktop... Non funziona, grazie! E' un cazzo, tu devi andare a vedere, poi devi testare, quindi fare un benchmark. Tu vai a vedere, proprio, si viene simulata in un ambiente che non è di fatto un ambiente di lavoro o altro, viene simulata un'azione o un qualcosa che genera carico sulla CPU e sulla GPU, e da lì vai a vedere se viene retto questo overclock appunto nel lavoro massimo, quindi al 100%. E qui potete sbizzarrirvi anche voi, quindi potete utilizzare un gioco, in primis, quindi se non avete voglia di scaricare un benchmark o cose così, però è ovviamente il metodo più corretto per avere un risultato uguale con i vari tentativi. O Superposition, ad esempio, che è uno dei più famosi gratuiti che... Probabilmente è il più famoso. Sì, 3DMark, ovviamente, noi usiamo tanto 3DMark, ad esempio, perché, vabbè, abitudine ce l'abbiamo. L'abbiamo pagato poco, eccetera, eccetera. Però se volete qualcosa di gratuito, Superposition sicuramente su tutti. E la terza cosa che vi serve è qualcosa che però è anche abbastanza opzionale, nel senso che vi servirebbe un software per monitorare che questi avvenimenti, che questi cambiamenti nelle frequenze, e poi andiamo a vedere anche cosa si va a toccare, siano effettivi, quindi risultino poi sulla scheda video. Ma anche le temperature, ad esempio. Anche le temperature. Voltaggi, tutto. Cioè, un software che monitori, tutto quello che sta succedendo. GPUZ. C'è CPUZ e GPUZ. Qua, in questo video, partiremo con quello che è storico e più famoso, ma veramente potete farlo con chiunque, c'è anche Afterburner. In questo caso, il primo step da effettuare è abbastanza semplice. Una volta che avete la scheda video montata, tutto funzionante, prima di fare overclock, settate un valore minimo. Quindi la fate andare a stock. Fate una run del vostro benchmark, in questo caso prendiamo Superposition come riferimento, a frequenze stock. E vediamo come l'alva. E vediamo come va. Segnate le frequenze che raggiunge la scheda, le temperature, il risultato finale, e già avete delle basi da cui partire. Capite perché a lui piace tanto sto roba qua? Perché lui segna, scrive, segna, scrive, segna, scrive. Dovete vedere quando fai test, prima con la carta, chilometri di carta, scritto ogni cosa. Ma scusa, ma abbiamo 70 PC? Lo scrivi sulla carta. Se scrivi le cose ti rimangono più in testa. A te rimane in testa tutto? A me no. No, scherzi a parte, però vi serve ovviamente, quindi segnatevi tutto. Da questo punto di vista, dato che Superposition, come tanti altri benchmark, vi fa vedere anche gli FPS, tutti i valori nello spazio in alto a destra, segnatevi anche gli FPS ovviamente. Quindi fate, guardate il cap che raggiunge con gli FPS il test, così potete avere anche un paragone con l'aumento delle frequenze, se effettivamente aumentano anche le prestazioni. Esatto. Ovviamente ragazzi, se utilizzate un gioco, dovete assolutamente togliere il V-Sync o qualsiasi opzione che blocchi, diciamo, l'utilizzo totale al 100% del vostro sistema, perché altrimenti non è un test valido che vi dà un risultato. Poi se volete standardizzare le temperature, dovete impostare un livello delle ventole, quindi una velocità delle ventole. E questo lo potete fare easy, proprio con Afterburner, o con T-T. Sì, infatti, sono strozzato da solo. Potete farlo facilissimo con Afterburner o con tutti gli altri software, perché hanno sempre l'impostazione delle ventole da gestire della GPU e potete fissarle a una percentuale che volete mantenere standard. E ora si passa a usare Afterburner, veramente. Esatto. Allora, per prima cosa, ragazzi, andiamo a toccare i power limit della scheda, quindi andiamo a alzare al massimo il power limit. Non vi preoccupate, non esplode niente. Semplicemente gli state dicendo di sfruttare la piena potenza che può sfruttare la scheda in quel momento. Poi andiamo a vedere anche come ritoccare i voltaggi, ma quello è un altro discorso. Da qui poi è iniziato a toccare la core frequency. Di... Però non è... Pam! Mamma mia, mamma mia. Di 10, vi fermate, si testa, si torna. 10, si ferma, si testa, si torna. 10, non a cannone, vediamo come va. Bisogna farlo graduale e andate così a testare pian piano quali sono i limiti del vostro hardware. E soprattutto quanto cambiano i risultati del benchmark. Perché se avete settato un valore di base, ovviamente, andate a vedere i vari step, quanto cambiano a livello di FPS, vedete soprattutto se le frequenze di fatto cambiano durante il test rispetto al valore che avete segnato inizialmente, come cambiano le temperature, il rumore, eccetera, eccetera. I risultati sono garantiti, cioè se lui e io abbiamo due schede e facciamo questa cosa, otteniamo lo stesso risultato? Assolutamente no. Molto probabilmente no. Anche se i modelli sono uguali, non è detto. Un piccolo accendo storico. C'era un sito che si chiamava Silicon Lottery. Questo sito è fallito. Praticamente vendevano delle CPU selezionate che riuscivano a raggiungere determinate frequenze. Perché, lo sapete, il silicio si chiama Silicon Lottery, appunto perché ci sono alcuni processori che riescono, appunto, all'Ottere e al Silicio, ad andare di più rispetto ad altri. E non è una cosa calcolabile, perché chiaramente, quando viene sviluppato il wafer con tutte le procedure che ci sono dietro nello sviluppo di, appunto, una singola sezione del wafer per creare una GPU, una CPU o qualsiasi tipo di chip, le cose possono cambiare da singolo pezzo a singolo pezzo. E questo, appunto, questo sito testava prima le CPU prima di metterle in vendita a prezzi decisamente maggiorati per, appunto, vendere queste GPU a prezzo più alto, ma erano CPU che garantivano delle performance in più, più elevate rispetto a quelle che erano standard. Questo sito è fallito proprio perché, appunto, sul lato CPU ormai c'è poco da fare. L'overclock o quello che si può fare è, ovviamente, abbastanza limitato. Come detto, questa è la fase principale, quindi, chiaramente, dovete arrivare a un cap dell'overclock possibile sulla vostra scheda e arrivare a un cap significa che man mano che aumentate la frequenza del core del GPU nello specifico potreste arrivare a incappare in dei problemi perché, chiaramente, dopo un tot la scheda non ce la fa più a far girare il benchmark va troppo oltre va in protezione e, semplicemente, crasha il benchmark cominciano ad arrivare degli artefatti grafici dei glitch all'interno del benchmark quindi, chiaramente, lì avete raggiunto il limite massimo della scheda. Per risolvere la cosa non vi preoccupate non si rompe niente la scheda ha le sue protezioni quindi non la compromettete completamente a meno che, appunto... E come quando fate l'overclock delle RAM e aumentate la frequenza automaticamente ripristina e va alla frequenza di default Quindi, riavvio e vi siete segnati tutti i vari valori di incremento sapete da dove ripartire Ovviamente, ragazzi, anche qua sul canale in tutte le recensioni di schede video trovate praticamente tutte abbiamo fatto dei test di versione Sì, almeno un minimo Vedrete dei valori molto differenti ad esempio io ricordo con piacere la 6700 che abbiamo citato e la 2060 dove la 2060 di qualche anno fa avevamo tirata anche dell'8% in più e andava su come non so cosa ma altre schede dove veramente abbiamo fatto una fatica boia a tirarla su Non ci siamo riusciti proprio in alcuni casi perché spinte proprio al massimo Completamente dipende da modello GPU dissipazione da tanti fattori quindi anche ovviamente se prendete un top di gamma assoluto una scheda fatta apposta è molto decisamente più probabile che questa sia o comunque overclock ready infatti non è il caso non è il caso di tutte le schede perché potrebbe benissimo essere che ad esempio una 90ti del caso sia stata proprio tirata al massimo proprio per guadagnare quelle prestazioni in più tanto da giustificare un modello oltre la 90 un esempio su tutti per dire quindi ricordatevi sempre di testare dopo aver cambiato ogni cosa per vedere appunto se è stabile è un lavoro lungo molto lungo molto impegnativo e ci sono degli step intermedi che potreste poter valutare una volta raggiunto il cap con il core clock quindi arrivati appunto a non poterla spingere più di così potete fare delle valutazioni se volete andare oltre in quel caso potete toccare i voltaggi software burner è abbastanza semplice perché basta sbloccare delle impostazioni basta andare nelle impostazioni in generale e ci sono due voci relativi ai voltaggi quindi sbloccare il monitoraggio e la modifica dei voltaggi in sostanza ah e se del programma che usate il valore è sperso in percentuale lasciate perdere perché verosimilmente non vi aumenta poi la tensione in entrata quindi vedete da programma a programma potete pur provare però meglio la scelta e ovviamente aumentare le tensioni vuol dire anche aumentare le temperature quindi anche lì monitorare sempre tutto e soprattutto fate anche qui per piccoli step non tirate a cannone le tensioni in più quindi andate sempre di 10 in 10 in questo caso va benissimo sono millivolt in questo caso quindi non più megahertz però andate per step aumenti di là aumenti di là aumenti di là aumenti di là ovviamente questo era l'overclock della gpu però ovviamente la gpu non è una cpu c'è proprio una scheda attorno ci sono anche le memorie in questa scheda video che comprende gpu e memorie e quindi possiamo overclockare anche quelle mannaggia e ci siamo divertiti anche parecchio con le ultime schede perché in tanti casi si riesce a spingerle anche molto di più anche di 1000 megahertz quindi qui la procedura è praticamente identica avete sempre la voce memory clock invece che core clock invece che andare di 10 in 10 con i megahertz potete tranquillamente andare di 50 o di 100 in 100 qui la grande differenza è nel tipo di artefatti che possono venire fuori quando raggiungete il cap perché non c'è più magari il problema che il benchmark crashi per esempio ma può esserci qualcos'altro di più subdolo esatto quindi un calo di frame rate quindi un calo di fps per questo dovete sempre monitorare anche gli fps perché nel caso in cui andaste oltre con il clock della memoria potrebbe capitare che per gli errori di memoria lui corregga il tiro e abbassi gli fps in quel caso avete il vostro campanello di allarme esatto per il limite raggiunto una volta fatte tutte queste accortezze tutti questi appunto step di aumento arriva il momento della stabilizzazione cioè di andare a capire qual è il target raggiunto l'obiettivo raggiunto e fermarci lì perché ovviamente bisogna trovare anche un qualcosa che sia stabile nel lungo periodo puoi fare un overclock di picco cioè quanto io la riesco a occupare e un overclock daily che è un overclock appunto utilizzabile giorno per giorno che non vada a compromettere i componenti della gpu della scheda video e quindi appunto che sia utilizzabile tutto il giorno tutti i giorni ultimo step infatti questo ultimo step semplicemente è un benchmark prolungato quindi se superposition nella versione gratuita non vi aiuta quindi potete fare un test alla volta potete utilizzare qualsiasi altro tipo di loop per almeno un'oretta angineven ad esempio che è gratis spinto al massimo perché è tipo vecchio come la morte esatto del 2009 angineven e far andare appunto sotto sforzo la gpu per tanto 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 tempo per vedere se è stabile l'overclock che avete fatto e qua si differenzia appunto un overclock per voglio vedere il mio hardware com'è quanto può arrivare da quello che è voglio tirare fuori qualcosa in più dal mio hardware giornalmente quindi nel mio gioco di tutti i giorni piccolo punto qui alla fine di tutto quando trovate la stabilità sui vari programmi che utilizzate in afterburner c'è sugli altri non ne sono così sicuro ci sono vari profili che potete impostare memorizzare quindi se fate un overclock lo potete impostare sul primo profilo e richiamarlo ogni volta quando lo volete utilizzare ovviamente ragazzi un overclock aumenta le frequenze aumenta tutto quindi di fatto potrebbe anche aumentare la velocità delle ventole per mantenere la temperatura buona e allo stesso tempo quindi un aumento della rumorosità della vostra scheda video quindi valutate quello che vi conviene a livello di pro e contro arrivati alla fine di tutto questo ovviamente come abbiamo già detto anche all'inizio il senso è molto situazionale di fare overclock in questo senso e tra l'altro ci stanno puntando anche tanto spesso e volentieri a livello di marketing ancora i giorni d'oggi anche se la vedo veramente poco sensata ci sono strumenti che sono stati implementati da Nvidia da AMD per fare un auto overclock tanto millantato che poi alla fine si traduce in poca ciccia sì soprattutto quelle default però sicuramente su alcune GPU potete tirare fuori ancora qualcosa in più anche in daily e quindi godervi delle prestazioni aumentate sui giochi che avete quindi su quello che volete giocare tutti i giorni non è un male senza andare a danneggiare anche componenti su un lungo periodo però è innegabile che questa pratica se non per hobby se non per raggiungere i livelli appunto degli overclocker professionisti come Darbauer molti assannini e molti altri è ovvio che sta decadendo un po' ovviamente è tanto decaduta tant'è che quel sito appunto come vi ho detto è proprio sparito ma in senso stretto è una pratica che si sta sempre meno praticando in maniera costante e seria ultimo discorso molto doveroso chiaramente è quello su il problema del deperimento più velocizzato dei componenti perché chiaramente aumentando le frequenze rispetto a quelle che sono le frequenze di riferimento che l'azienda dà come cap la personalizzazione la reference quello che volete andate anche un po' a accorciare la vita del componente perché frequenze più alte temperature più alte ventole che vanno più forte eccetera eccetera si esatto perché una scheda video è un insieme di tanti componenti e dipende dalla qualità della scheda video di componenti che sono installati ogni componente ha ad esempio dei range di temperature che possono essere stesi che possono andare a 125-150 gradi o un range classico connessatore elettronitico normale che arriva a 85 gradi lo standard però di fatto dipende la qualità dei componenti inficia tanto sulla durata della scheda e su quanto possa reggere un overclock di questo tipo infatti quindi se volete farlo potete farlo ma tenete conto di tutte queste cose esatto ragazzi ma fateci sapere cosa ne pensate se la utilizzate se avete raggiunto delle performance interessanti sulle vostre schede fateci sapere qual è la vostra migliore performance su una scheda video in un overclock e valutiamo parliamone qua sotto ma soprattutto fateci sapere se siete interessati magari a qualcosa di un pochettino più elaborato che in alcuni casi può essere anche più utile volendo vedere che l'undervolta ad esempio su tutti quindi ricordatevi che per trovare una scheda video c'è prodigio offerte e just track it e alla prossima ragazzi grazie a tutti grazie a tutti